carissime amiche e carissimi amici della tribù buonasera sono tornato da poco a casa dopo una giornata davvero incredibile qui a barcellona piogge torrenziali situazione davvero difficile anche per i movimenti ma nulla a che vedere con il delirio sono giù con popi e col mio cane come potete vedere il suo popi ecco il vecchietto sono tornato a casa faccio fare un bel giretto e niente purtroppo la situazione di valencia è davvero grande drammatica quindi vi faccio semplicemente vedere le immagini che mi ha avviato un mio carissimo amico ormai decennale adriano lombardozzi che tra l'altro anche uno psicologo quindi una persona non è uno qualunque che adesso si è messo a fare il reporter in questi giorni su quello che sta succedendo a valencia dove lui vive da qualche anno da quando si è sposato con con sua moglie prima viveva qui a barcellona e le immagini parlano da sole io quello che vi chiedo semplicemente è cercare laddove potete se già non lo avete fatto in basso c'è un link in descrizione proprio per poter dare una mano che sia anche un euro due euro c'è proprio un conto corrente creato dal milan dai tutti i milan club spagna quindi qui barcellona madrid milan club canaria per fare proprio una raccolta fondi da inviare poi direttamente al croce rossa spagnola di valencia ok la situazione è davvero drammatica ci sono posti che da cinque sei giorni sono probabilmente sperduti dove non c'è assolutamente accesso per quanto riguarda la circolazione e secondo me lì si troverà davvero il vero massacro di persone che non ce l'hanno fatta che si troveranno lì nei bassi saranno purtroppo in me come è successo ieri nel centro commerciale di bonaire lì a valencia che hanno trovato 100 corpi morti lì nel parcheggio perché è stato inondato e non hanno più avuto la possibilità la forza per uscire dali quindi ogni giorno stanno aumentando in maniera davvero drammatica non so cosa dire ragazzi davvero questo va al di là del calcio questa è vita reale e quindi vi lascio le immagini che sicuramente potrete tastare con mano la situazione ci vediamo alle 21 e 15 al processo di rosso nero e poi torniamo indietro di qua dai eh tutte le macchine una sopra l'altra ragazzi stiamo di nuovo a mezzo al fango un'altra volta questo è il macello qua panico tutto distrutto siamo dentro la casa di una persona questo è come era tipo il patio anteriore il giardino questo è come è finito io te le sei molto suerte spero che poco a poco potrai recuperare la cosa e questo eh vale muchas gracias por dejarnos entrare in casa eh che venga molto bene grazie niente raga qua un macello come potete vedere andate qua che roba ecco qua un macello come potete vedere andate qua la piene Tutto distrutto qua rega, tutto distrutto Rega sono fino nei paludi per seguire l'amico mio reportero Siamo finiti proprio nel disastro più totale, ragazzi come potete vedere Qua sembra sfasciare carrozze Il labirinto delle macchine ammontonate Ma cosa passa? Non passi mica qua? Non passi? Passiamo là sopra Dici che il fango sta meglio? Non lo so Secondo me, guarda se riusciamo a passare su queste sbarre qua Ok poi arriviamo là Qua è facile Non lo so Guarda Alessandra Grazie.